Musica Nuovo assetto nell'esecutivo regionale di centro-destra, Quintino Pallante va la delega ai trasporti, a Michele Marone il lavoro, a Roberto Di Baggio il sottosegretariato. Musica Sulla questione del trasporto pubblico la maggioranza in consiglio regionale è stata abbattuta da una mozione a firma delle minoranze e decisivo il voto dei dissidenti. L'ospedale veneziale di Isernia non chiuderà il reparto di oncologia ma sarà accorpato a medicina interna solo fino a metà settembre per la turnazione degli infermieri. La rete di distribuzione nella frazione di Santo Stefano a Campobasso sarà convertita a gas metano. Il comune recupera le frazioni periferiche. Un cordiale saluto dalla redazione giornalistica di TLT. Il presidente della regione Donato Toma ha rimescolato gli incarichi all'interno della giunta. Entra Quintino Pallante ma la Lega mantiene una poltrona nell'esecutivo. Vediamo. Dimostra di voler mantenere un percorso di pace il presidente Donato Toma che come aveva annunciato risolve in modo non cruento e non conflittuale i problemi interni alla coalizione riallineando tutti i percorsi politici e di appartenenza. La sua decisione è stata annunciata ufficialmente al Consiglio e si concretizza nel mantenimento in giunta dell'ultimo nominato come assessore, quel Michele Marone che aveva incassato i mugugni di quasi tutte le altre parti politiche. Il presidente ha così mostrato di voler mantenere il suo patto con la Lega che tanto lo ha sostenuto durante la campagna elettorale confermando la nomina dell'esponente leghista termolese. Ha però nominato un nuovo assessore che di fatto viene fuori da un avvicentamento tra due consiglieri. Quintino Pallante in quota Fratelli d'Italia è diventato infatti nuovo assessore prendendo il posto di Roberto Di Baggio che lascia la carica di assessore e occupa il posto di sottosegretario. Una situazione di compiti e ruoli tra i due esponenti politici che accontenta entrambi e le forze politiche di cui fanno parte. Tutto viene fuori dopo una lunga notte di trattative con il presidente Toma impegnato a chiudere i giochi ed uscire rafforzato dalla minicrisi e sostenuto da una compagine che non viva momenti troppo aspri di confronto e conflitto. La nuova giunta regionale di centrodestra è così composta vicepresidente Vincenzo Cotugno con deleghe all'internazionalizzazione delle imprese, turismo e cultura. Riccola Cavaliere alle politiche agricole e programmazione forestale a Michele Marone, lavoro, politiche sociali e per l'immigrazione a Vincenzo Niro, lavori pubblici e viabilità. Per Quintino Pallante la delega alle risorse umane, trasporto e politiche energetiche. Infine all'ex assessore Roberto Di Baggio di Forza Italia l'incarico di sottosegretario alla presidenza della Giunta. Cambiamo argomento e ritorniamo a fare il punto sul trasporto pubblico locale. Oggi c'è stata una nuova protesta civile dinanzi le porte del Consiglio regionale. Siamo andati ad ascoltare il sindacalista Carmine Mastro Paolo. Mastro Paolo, un aggiornamento. Ecco, insomma, siete tornati naturalmente a fare il presidio come avevate annunciato alcune settimane fa. C'è qualche novità? Beh sì, anche se come presidi abbiamo prenotato fino alla fine di luglio, quindi ce ne sarà ancora un altro martedì prossimo. Addirittura c'è un'azione di sciopero che era partita per il giorno 27 le ultime quattro ore per i problemi dei trasporti. Stamattina abbiamo constatato che qualcosa si muove. Nel senso che è stato finalmente assegnato l'assessorato ai trasporti al consigliere Pallante, che ci ha promesso in settimana un incontro, perché i problemi sono tanti, non è possibile esporli in pochi minuti qui davanti, però se sono rose fioriranno. I segnali sono di cambiamento, a sentire anche le intenzioni dell'assessore. Non possiamo che essere ottimisti e speriamo di lavorare assieme per risollevare questo settore un po' bistrattato negli ultimi tempi. Mi sono stufato pure di dire che i problemi sono tanti. In effetti sono tanti, però il primo segnale positivo è quello che da domani riprenderanno i servizi non scolastici, quindi possiamo dire di esserci messi alle spalle il periodo della pandemia, la fase 1, la fase 2, la fase 3, quindi ci sarà un'offerta congrua anche per i pendolari del Molise, che chiaramente d'estate, essendo gli studenti maggiori clienti del TPL, è ridotta. Però se non altro i nostri iscritti, le persone che rappresentiamo, torneranno a lavorare come nel periodo precedente del Covid. E questa è già una buona notizia. Nel TPL resterà, ahimè, il distanziamento sociale, quindi la capienza dei mezzi sarà sempre dimezzata, perché oggi abbiamo appreso che per esempio per i servizi su Roma, su Napoli, su Pescara, si può ritornare al riempimento dei posti, quindi un autobus da 54 potrà portare 54 persone. Nel TPL regionale invece nell'extraurbano ancora restano, e anche nell'urbano resta il distanziamento sociale, però diciamo che è finito il periodo degli ammortizzatori sociali per gli autisti del TPL Molise. Ecco, gli ammortizzatori sociali, l'ultima volta, l'ultimo presidio, gli autisti erano rimasti a zero sostegno, si può dire così. Ecco, sono arrivati, le notizie quali sono? E qui, ahimè, è una nota dolente, siamo ancora che le persone devono percepire l'ammortizzatore sociale di marzo, quindi no, non si è mosso niente in questo settore, è un impegno che ha preso anche l'assessore, perché in effetti per chi non ha guidato era l'unica fonte di sostentamento, perché era tutto ammortizzatore sociale il suo stipendio, e quindi ha preso anche questo impegno di perorare la causa sia verso le aziende che verso l'Inps per accelerare i tempi in modo da interrompere questa sofferenza degli autisti. Sulla questione del trasporto pubblico, la maggioranza oggi è stata battuta per due volte in sede di Consiglio a Palazzo d'Aimmo dalla mozione prodotta dalle minoranze del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Decisivi voti dei dissidenti del centrodestra Michele, Iorio e Aida Romagnuolo. Post terremoto verso la ricostruzione non bisogna più perdere tempo ora che ci sono le risorse finanziarie. Sono queste le considerazioni di Conf Professioni. Dopo la nomina del presidente della regione Donato Toma, commissario per la ricostruzione e l'annunciata partenza dei lavori dopo il sisma dell'agosto del 2018, non resta ora che accelerare i tempi e utilizzare al meglio i fondi stanziati, 39 milioni di euro, nell'interesse pubblico, perché il Molise non può aspettare. Queste le considerazioni di Riccardo Ricciardi, presidente di Conf Professioni Molise, da sempre attento alla questione. Il vertice della Confederazione ha infatti più volte sollecitato l'avvio degli interventi per ridare dignità al territorio e ai circa 200 cittadini sfollati, avvalendosi di valide professionalità, compresi i cosiddetti precari del sisma molise, coloro che potrebbero gestire i cantieri con competenza e celerità, essendo personale formatosi per oltre un decennio. Benvenga, ha continuato il presidente Ricciardi, l'annunciata volontà del governatore Toma di rimboccarsi le maniche, lavorare sodo e recuperare il tempo perso e di convocare a stretto giro i sindaci dei comuni interessati per fare insieme il punto della situazione, ma tutto questo deve avvenire velocemente e concretamente. Passiamo alla cronaca. Arresti domiciliari per un 21enne rumeno residente a Campobasso, il giovane disoccupato e tossicodipendente lo scorso dicembre, approfittando di un momento di scarsa affluenza di clienti, aveva fatto irruzione, armato di un coltello e con il volto coperto, in un esercizio commerciale del capoluogo e minacciando la proprietaria si era fatto consegnare l'intero incasso. C'è accordo con il Governo nazionale per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci a causa della pandemia dovuta al coronavirus. Vediamo. C'è l'accordo con il Governo nazionale per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia e della conseguente crisi economica. Queste le ultime dichiarazioni del Presidente della Regione Donato Toma a seguito della Conferenza delle Regioni. Sono risorse indispensabili, ha spiegato Toma, per garantire servizi essenziali ai cittadini, dalla sanità all'istruzione del trasporto pubblico locale all'assistenza. L'accordo coinvolge sia le Regioni a statuto ordinario che le Regioni a statuto speciale e le province autonome. È pertanto previsto il riparto del fondo nella proporzione di un terzo per le Regioni a statuto ordinario e due terzi per quelle autonome speciali. Viene così ripartita la quota già assegnata dal Decreto-Legge di 1,5 miliardi per il 2020, assegnando 0,5 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per la compensazione delle minori entrate e risalente al miliardo delle autonomie speciali. Il Governo ha nel contempo preso atto che si tratta di uno stanziamento del tutto insufficiente rispetto all'effettiva perdita delle entrate regionali. si dovrà quindi continuare a definire nel corso dello stesso anno e del 2021 l'entità effettiva delle mancate entrate. Impossibilitato a prendere servizio come vigile urbano causa malattia viene debennato dalla graduatoria del Comune di Termoli per il progetto Spiagge Sicure di questa stagione estiva. Protagonista della vicenda del 53enne Giuseppe Castelli che avrebbe dovuto prendere servizio domenica 19, primo giorno utile successivo al periodo di malattia. L'ex ristorante termolese fuori rotta può tornare a disposizione del Comune del Demanio. L'attuare concessionario del locale ha perso il ricorso della parte esterna dell'intera struttura che sarà quindi restituita allo Stato. A conclusione dell'iter burocratico sono giunti sul posto i militari della Guardia Costiera e della Polizia Municipale. La bocciatura di un centro Covid regionale a Larino trova la contrarietà anche del partito di Fratelli d'Italia. La forza di centrodestra auspica una soluzione in seno al Consiglio regionale. Fratelli d'Italia si è sempre dichiarata favorevole alla creazione di un centro Covid di un reparto per malattie infettive nel nosocomio di Larino alla luce anche del documento firmato da numerosi amministratori del Basso Molise che hanno dato il proprio consenso verso il Vietri in considerazione del documento approvato di recente a maggioranza in Consiglio regionale che auspicava proprio tale soluzione in ambito medico. Fratelli d'Italia prende atto invece che il Ministero della Salute ha bocciato l'ipotesi avanzata dai sindaci e si dissocia da questa decisione. Inoltre esprime dubbi sulla possibilità di creare una rete ospedaliera Covid regionale organizzando posti letto sugli ospedali di Campobasso, Termoli e di Sernia. Tale soluzione comporterebbe paura nella popolazione e allontanerebbe i malati con altre patologie favorendo di nuovo i ricoveri nelle strutture private. Il partito di centrodestra auspica che tale problematica venga al più presto ridiscussa nell'Assemblea regionale di via 4 novembre che ci si contrapponga la volontà del Governo nazionale e che sia tale organismo politico-istituzionale a decidere in via definitiva il futuro dell'assistenza più idonea per i molisani. Sono infondate le voci di una chiusura del reparto di oncologia all'ospedale di Sernia a ribadirlo dalla direzione generale dell'azienda sanitaria di via Ugo Petrella. Continueranno ad essere garantite al Ferdinando Veneziale il ricovero ordinario, il day hospital e le attività ambulatoriali. fino a metà settembre le unità di oncologia e medicina interna saranno accorpate per le sole degenze. E mantenimento e potenziamento del consultorio di Termoli questa sera nella località sull'Adriatico c'è stata una manifestazione di protesta lungo corso nazionale indetta dalle donne d'emme e dal Partito Democratico una iniziativa tesa a scongiurare il rischio di chiusura della struttura assistenziale capace di garantire servizi gratuiti di prevenzione alla salute. È stato avviato un nuovo progetto all'Istituto Neuromed di Pozzilli sugli effetti del virus. Lo studio punta a chiarire il ruolo che la risposta iniziale del sistema immunitario e i relativi processi svolgono nel determinare la gravità della malattia. Nuovo progetto al Neuromed di Pozzilli che studierà come il sistema immunitario reagisce al primo attacco del coronavirus e come questa reazione possa determinare in alcune persone una risposta infiammatoria eccessiva capace di portare a gravi complicazioni. Un progetto ambizioso che dopo una dura selezione è risultato uno dei vincitori del bando di ricerca Covid-19 del Ministero della Salute. Il successo della proposta dell'Istituto rappresenta un riconoscimento alla qualità del lavoro dei centri coinvolti e all'originalità del tema proposto che potrebbe aprire la strada verso terapie capaci di evitare le manifestazioni più gravi dell'infezione. Il focus del lavoro è puntato sull'immunità innata, la primissima difesa contro le infezioni che presenta due facce. può avere un importante ruolo protettivo ma può anche essere riconoscibile di una maggiore severità della patologia stessa. È indispensabile, ha spiegato la professoressa Angela Santoni del Dipartimento di Patologia Molecolare del Neuromed, capire adesso a fondo i fenomeni infiammatori che entrano in gioco nel determinare la severità di questa malattia. Si tratta di un elemento cruciale nel rispondere alle nuove sfide in termini di bisogno di salute che sono stati obiettivo principale del bando. definire le attività riservate ai professionisti dei beni culturali, garantire che i servizi aggiuntivi per la fruizione del patrimonio artistico siano affidati a concessionari che facciano ricorso a risorse umane qualificate e abilitate, definire la funzione di supporto del personale volontario, includere nel sistema degli elenchi dei professionisti dei beni culturali l'educatore museale, il paleontologo e il manager del patrimonio culturale. Figure finora escluse sono questi gli impegni richiesti al Governo nazionale contenuti in una risoluzione a firma del Movimento 5 Stelle. La maggioranza dei lavoratori del comparto Cultura operano in Italia senza contratto o vengono reclutati come volontari ricevendo un semplice rimborso spese. Recuperare e migliorare le periferie urbane di Campobasso, la rete di distribuzione energetica nella frazione di Santo Stefano sarà convertita a gas metano. La frazione di Santo Stefano a Campobasso a breve potrà contare sulla conversione a gas metano della rete di distribuzione, più sicura in termini di continuità del servizio, perché connessa alla rete nazionale e regionale di trasporto del combustibile, è più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico rispetto ad altre fonti energetiche alternative. Per gli amministratori a Palazzo San Giorgio, l'erogazione del metano nella frazione alle porte del capoluogo va nella direzione di recuperare le periferie urbane. Si dà seguito a un impegno importante assunto da parte di Talgas, sicuramente, ma si mostra anche concretamente l'attenzione verso la periferia. Santo Stefano, in questo senso, è un esempio di quello che stiamo tentando di fare, cioè di recuperare l'attenzione verso i problemi meno visibili, ma non meno importanti rispetto a quelli del centro. Tenete conto che queste aree sono state per molti anni oggetto di poca attenzione per tante ragioni e stiamo cercando di recuperare prima di tutto la comunicazione con queste periferie e poi, con l'attenzione dovuta, anche di recuperare il gap infrastrutturale che si è creato. Ciò che è importante è che in questo momento per noi è basilare e garantire la continuità e l'affidabilità dell'erogazione, che ovviamente in altre circostanze non sarebbe garantita. Italgas ha avviato le attività per la conversione a metano della rete di distribuzione della frazione. I dettagli dell'investimento sono stati illustrati dall'amministratore delegato Carlo Salamone, assieme all'innovativa tecnologia Picarro, che avrà il compito di controllare la rete comunale per individuare con tempestività eventuali dispersioni di gas. Questa è una tecnologia che adottiamo già da qualche anno, grazie a un accordo con Picarro, è una tecnologia che abbiamo importato dalla California e adesso Italgas la sta usando su tutto il territorio italiano con l'esclusivo per l'utilizzo in Europa. Grazie a questa tecnologia che prevede un'analisi dell'aria, grazie a una spettografia, riusciamo a captare le fughe gas anche a 200 metri di distanza. Una volta individuata, grazie al GPS localizziamo la zona, poi andiamo con lo zainetto manuale e l'utente riesce proprio a individuare il punto esatto di cui abbiamo la dispersione gas. In alcuni casi abbiamo trovato anche delle dispersioni all'interno dell'abitazione dell'utente. Insieme alla conversione a metano, la società Italgas sostituirà nella frazione di Santo Stefano gli attuali contatori con quelli definiti intelligenti per la telelettura dei consumi. La sedicesima edizione di Giornate al Borgo a Fornelli è stata annullata e rinviata al 2021, una decisione sofferta ma necessaria al fine di preservare la salute pubblica a causa del Covid-19. Siamo adesso alle previsioni del tempo. A Loha Park Village a Campomarino Lido per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu. Cielo generalmente sereno oggi su gran parte del Molise, stellato dalla sera. Le temperature della giornata odierna sono comprese tra la minima di 17 gradi a Campobasso e la massima di 31 gradi a Disernia. Domani ancora bel tempo su gran parte della regione, poco mosso il mare Adriatico, venti da deboli a variabili. Iniziamo la pagina sportiva dal calcio. Simone di Domenico Antonio è un nuovo tesserato del Campobasso. La società Rosso Blu ha chiuso l'accordo con il 23enne Mancino che molto bene ha fatto lo scorso anno con la maglia marchigiana del Tolentino, siglando sei reti e fornendo numerosi assist. Per l'attaccante romano ha anche diverse presenze in Lega Pro con il Rieti, squadra con la quale ha trovato il suo esordio nei professionisti nella stagione 2018-2019. Il suo ruolo naturale lo vede agire come esterno d'attacco e sarà a disposizione dell'allenatore Mirko Cudini a partire dal 1 agosto, quando i Rosso Blu si ritroveranno allo stadio di Contrada Selva Piana per il primo giorno di ritiro precampionato. E venerdì 24 scadono i termini per l'iscrizione alla Serie D di calcio, la quota da versare alla Lega Nazionale di Lettanti è di 16.500 euro più 31.000 euro per la fideiussione. I dirigenti dell'Olimpia agnonese fanno appello ai tifosi Granata per partecipare con un contributo economico all'iscrizione del club al 14esimo anno consecutivo in quarta serie. Il Cusmoli se calcia 5, conferma tra i pali il ventenne portiere Luca Sirvaroli per la prossima stagione nella A2 Nazionale. L'estremo difensore sarà uno dei pilastri dell'Under-19 della prima squadra, quest'ultima affidata ancora una volta a Marco Sanginario. Anche la nuova atletica Isernia sta ripartendo dopo i lunghi mesi di pausa forzata. La società sta lavorando alla Corrisernia. Anche quest'anno la NAI è pronta a scendere in strada per la Corrisernia, una manifestazione che ormai da anni caratterizza il panorama sportivo della cittadina Pentra. Intanto, dopo il fermo forzato legato all'emergenza sanitaria da Covid-19, seppur un po' a rilento, le attività sono riprese, con la speranza che l'attesa manifestazione podistica si possa riproporre a settembre, come spiegato dal presidente della nuova atletica Isernia, Agostino Caputo. Stiamo ripartendo piano piano, come tutte le altre società. I nostri ragazzi stanno già allenando al campo. Sabato ci saranno i primi test controllati, i cosiddetti test TAC, e quindi si inizierà. Noi siamo in moto per la Corrisernia in sordina a un incontro col sindaco per vedere se riusciamo ad organizzare questa nostra manifestazione che è in programma per la fine di settembre, diciamo. Quindi ce la metteremo tutto, se ci daranno le autorizzazioni saremo sicuramente ben lieti di organizzare anche questa edizione. Siamo in chiusura. L'azienda Spalding firma un accordo tecnico di sponsorizzazione triennale con il club cestistico Campo Bassano della Magnolia, la multinazionale e il brand per eccellenza del basket mondiale. Partner della Feder Basket italiana, la Spalding fornirà le nuove divise, l'abbigliamento tecnico di rappresentanza e quello sportivo, per il tempo libero. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere rimasti con noi. È tutto. Arrivederci.